Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video qua dai push strani, siamo passati da Lola a cose incredibili Oggi siamo con Pam e siamo con due ospiti incredibili Oltretutto è anche in live, stiamo facendo un intreccio clamoroso con Diaz e il buon Juned che abbiamo anche in voca Si va bene così, si va bene così E via Contro Colette ci vede? Sì sì sì, va benissimo Allora Questi con Piper lane e Colt mid hanno sbagliato, al contrario Ma però la Piper Si è giverto sì Nuova meta ragazzi Si è aperto tutto Vabbè facciamo finta che non l'ha visto nessuno Ma comunque o è emozionato o non si spiega È stanco nel suo radio di gioco questo Come no? È per davvero, è per davvero non è il mio solito questo È staccavate prima? Buono buono Lui sì, lui stacca molto rispetto a me Proviamo te sul topo e io di là Va bene Io ancora devo capire come si schiva a sto bro Devo stare dito dito davanti al colpo Eh o dritto, sì Perché se ti metti di lato C'ha colpetti laterali che ti prende È impossibile Mi ha one-shot fatto comunque Dai dici Non so Vai Diaz Sta schivando qualsiasi cosa comunque Questo Sei morto E niente La bella mi prende la casa sua Dici Ok Io con Crow è una partita persa in partenza E vabbè rimane vivo, basta Tanto la carriera di Diaz E non me, questa è la fiducia che la casa c'ha in me, va bene Ma c'ha il bro è più forte Passa, 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 ti prego Passa Oddio? Subito così? Bello Non è fiducia in me ma c'hai su Diaz Vabbè ragazzi Un like Un Un gol di Juned Allora Vediamo se riesco a qualcosa Dovrei fare la ultima in gioia No, non è vero Non possiamo anche fare la ultima contro Crow No, vabbè Un pallino alla volta mi stanno venendo sei cose diverse Mamma mia Ho fatto Oh, è presto killato sto qua Siamo di Assando Abbiamo fatto un gol Teniamo le past Sì, possiamo anche tenere Sì Appunto Crow, finché c'è una volta fatto la ultima non fa nulla Ma questa è bella ragazzi è da hit che non c'ha senso Il problema è che poi c'ha tipo un botto di trappole o ult Ecco, vedi, l'ho preso una adesso Goal, eh? Eh, addio, sei morto Oddio Non preciso Usa l'out aim e mannaggia a me Vabbè, 28 secondi Allora, la pata la metto nell'angolo, proprio l'incastrata Non è incastrata, la metto in incastrata magari Ma? Ma che poi non so se... No, c'è l'hypercharge brutta Dovrebbe essere una doppia Bravo Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo Non so se hai visto Qualche giorno fa mi è capitato un bug della palla con foot Mi è rimasta incastrata nell'angolo proprio della porta Non è successo? Succedeva tempo fa Siamo a 1233 Io su Leon o te No, io non Ok Vi alzano il game, eh? Ok Ok C'è un po' di la torretta, più che altro Bello Subito così C'è rallentamento, eh? Non c'è lo stun Peggio Eh, oddio Dovrebbe essere Golland Bello Bello Succede niente, certo Niente, c'è un po' cosa qua il volo C'è un po' di la torretta, più che altro E' ucciso pure Bravo Ok, credo che sono morto Questo è morto, buonissimo Se riesce a buttare la palazza, ve lo ripeto Dove lì do dire? Dove radiazzi, aspetta Stiamo Ok Stavolta ho capito che andavi dritto Non t'ho visto con la ulti Stiamo trovando solo doppiolonga adesso Ciao bilotto Comunque Mori, cioè, no, mi pende Ovviamente non voleva morire Madonna, hai rischiato di prendere il palo, ho visto Dici? Sì, sì, ho visto malissimo il palo Ah, ragazzi, questo sa comunque due cazzo, sta fammi capire Io ho visto che è morto Anche diazzi ha preso il palo Proviamo il cambio che c'è coletto, no? Eh sì Anche se è coletto Non mi sembrano fortissimi Eh, c'è muo è one shot E perché altro c'è sempre il mortis che fa quello che ti pare Vai, mica muore qui, vado Niente più 0-9, ma non è vero Zeus Mortis è lì a destra E c'è muo sopra Gli altri devono arrivare Eccolo Io ho quasi la ultima, spassa la palla Sei partito te, ma la palla no? Ok, è morto uno almeno È mortato Dovrebbe essere che ho il cesore di alzo Ok, GG Ok, è morto uno almeno Una donna No, peccato Eh, la ultima è veramente Isageratamente forte No, era tutto veramente Il zvedesso mortis Mira, pure all-hyper, ammazzo Di cattiveria Ne ha fatto tutti Bello questo Palla, 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 palla Mortis con l'hypercharge Bruttino quello È morto praticamente Bella la hit Ok, bello GG Ma Dk ha un mio amico storico Oltretutto anche l'editor Che sta raditando Che sta vedendo questo video Trama Questo lo mettiamo anche nel video Ma Dk è veramente lui Accanto al 2018 È veramente lui Ma che Ah, oltretutto nel club 2018 Ma Belli Tutti con la skin diversa Poi che carini Questa è da video Perfetta Se perdiamo Mi piace male Questa è una rottura Molto esotica È switch È che c'ho accorto il lane Un attimo Non so, per dire Io Eh, io vengo counterato Questa volta Mi spiace Mamma mia Do la mente L'ho visto un palo gigante Comunque Questa l'ho vista Anch'io Anche perché io Su foot Ho degli evidenti problemi Non giocandoci spesso A segnare Sono un po' scarso Ok Vabbè 3 colt facevano Più scena Che altro No Dai Che palle Stavo per dire Non avete finito Mamma mia L'ultimo game qua Byron colt Eh Vado Vado io contro Clancy Faccio ossì Destra Destra Sì sì Destra immagino Sì Ok Ci abbiamo preso Mamma mia ragazze Che è di lei Oddio è vero Ma nemmeno troppo però No no A me mi si era fermato Proprio il gioco Per 3 secondi Non l'ho sparato Bello No ragazzi Non mi spara Veramente fastidioso Vabbè Il colt Questo Se il colt Mi sa che c'era un po' Di lei anche lui E Dea se Ma hanno un colt E qua cos'è Un gol Da un rank 35 Veramente ambiguo Questo Con un duo Altrettanto ambiguo Molto Un duo Inaspettato Non ancora finito Perché non l'ha No infatti Non lo so Se l'ultima partita Bello Bello No ha sbagliato Eh ragazzi Sbagliato Era calcolato Ovviamente Guarda di as Quanto è cattivo Si sta giocando Si sta giocando tutto Si stava Correndo Un baron Con l'ultimo Ok Col trick lo fa Aspetta No E' così che si fa Oggi E si che si push E ora c'è No c'è Lider E no c'è Clancy pure Al tre Questa ragazzi Come finisce Bello Ok Dato questo Attenzione Sembra Mamma mia Però Stavo tagliando Come una merda Lì E ce l'abbiamo Eccolo qua Nella maniera Più brutta possibile Ok Ragazzi Pam Al 35 Molto Molto Inaspettato Ragazzi Vi chiedo un bel like Un bel commentino E anche L'iscrizione Ovviamente vi lascio in descrizione Tutti i social di Juned Ringrazio lui E Diaz Penso il push Non lo so Più strano Possiamo dire Quello più strano Mai fatto Veramente ambico Mentre che lui fa cose Io vi ringrazio E ci vediamo Al prossimo video Grazie a tutti A notorious A A A A A A A S